Buona fortuna Dai Dite che sono io il killer Hanno palesemente riammazzato qui Non hanno palesemente riammazzato qui Miracolo divino E de birra pure Che sta a fa' questa? Paolo che sta a fa' Dietro che rimane sempre indietro Codomo ferma davanti a un corridoio Inquietantissima Eh sì Qui bisogna andare in reattore Codomo mi vede passare Paolo mi vede passare L'acqua potrebbe essere che Stanno a fa' qualche zozzeria Mamma mia Paolo Quanto mi triggera Tombler non è Aveva paura che lo uccidesse Però adesso Paolo entrerà e controllerà se c'è qualcuno Però ha perso tempo quindi io posso fare questa cosa Stuk Stuk Io sono all'engine Io stavo mandato a far call out Ah io sono a reactor a sinistra Dov'è office? Maestro lei che giro ha fatto? Io stavo con Gabbo Gabbo dove è office scusami Dov'è office scusate Office dove si fixano le luci ragazzi Office è quella sopra Madbay? Ehm sì No 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 Quella è communication Office a fianco admin Office a fianco admin È sotto greenhouse È a sinistra a sinistra di admin Maestro io ho realmente bisogno di capire che giro ha fatto Perché allora o lei era nella stessa stanza assieme all'impostore che era chiuso in botta le impiante Greenhouse Oppure lei stava per essere scammato malissimo Io stavo con Gabbo a fare la task dove stai elettrico Attiva la luce Non l'ho fatta perché stavo aspettando Ragazzi io vi posso dire che Blur non è l'assassino Che io non sono l'assassino Gabbo ha fatto la call Omi e Fieri che non hanno detto una cazzo di parole E puzzano un sacco No Paolone Ma in basso a destra Lì dove ci sta il pulsante Paolone ma tu eri tu in decontaminazione Sospetti di me Deluxe No 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 volevo chiedere se tu all'ultimo Quando io sono quando hanno chiamato Io ho visto che c'era qualcuno in decontaminazione Io non farei male a una mosca Deluxe Scusa ma Gabbo tu chi hai trovato? Ho trovato Atrix Che l'ho visto poco dopo di me Io stavo andando su in Greenhouse Ho visto il maestro Ragazzi non è che non è che non è ma Nessuno ha sospetti su Omi Nessuno ha sospetti su Omi No io ho l'unico Gischianto che non ho visto bene Io no io ero in motore ragazzi Qua si poteva votare tranquillamente Perché Paolo Giamo? Perché mi è puzzata la mossa in realtà Eh volevo parlare anche io di una roba però vabbè Vabbè pigio il pulsante Eh non lo pigio il pulsante si O potrei farlo ma è rischiosissimo Ragazzi io sto lì a guardare Sto lì a guardare Sto lì a guardare Come un voglierista Tanto le task non ne fa nessuno Boh regà Paolo ha detto cose sensate L'unica cosa Vabbè ho votato a cazzo regà Perché tanto ce n'è Non votava nessuno Hai capito Blur Sono tutti qua in basso a destra Eh devo rifare le luci Ah oh si le luci non le fa nessuno Si va subito a premere il pulsante Allora ho fatto le luci io e non c'era nessuno Nessuno voleva venire E in più volevo chiarire quella roba con Giammo perché volevo capire una cosa su Paolo Ok Ma scusate No c'è qualcosa che non mi guarda Cosa? A me sa che mi ha botolato davanti Gischianto Io botolato? Ma quando ma che stai dicendo? Ragazzo delle cose Naffia le piante No no ma mi so Probabilmente me so sbagliato Un po' un attimo Un attimo No Volevo capire prima Paolone Che io sono entrato in decontaminazione Lui non è venuto con me È rimasto sotto Io sono salito sopra a fare delle tasking Il reattore Poi stavo riscendendo Quando Gabbo prima ha chiamato il cadavere Ho visto che c'era qualcuno in decontaminazione Pensavo fosse Paolo Che era arrivato Io e Blur Io e Blur Quindi eravate in decontaminazione entrambi? Ma tu come ci sei arrivato lì Paolo? No no Eh punto A piedi A piedi Io ragazzi non ho mai visto Fieri comunque in giro eh Io stavo con Power adesso a fare la tessera Che poi tra parentesi Power era lì da prima di me E ci ha messo più tempo di me a farla Blur comunque Eh scusami No fermati Fermati stai trollare Io sono arrivato quando tu sei uscito Erik sta troppo zitto no? Io ma ci ho messo zitto Ma sto parlando Non ci schianti Ma mi sentite? Sì 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 Siamo ci sentiamo Va bene Che vuoi da fuori Delu Delu hai sprecato un pulsante per una stronzata Il cazzo per una stronzata Zì era una gola importante quella di prima Se non c'era nessuno in decontaminazione Vabbè per capire Io ho dei grandi sospetti su Power Su Power Su Power L'altro Gabbo Su subito sgozzato Gabbo Io sono sempre più confuso comunque Easy Per una stronzata Come ti permetti? Cioè nel senso io faccio metagame E dico che è Deluxe Perché Deluxe chiama sempre il pulsante da impostore Cioè nel senso la solita Ma a parte quello Siamo montati da Omi Deluxe non credo che sia Sono talmente confuso Che non mi ricordo nemmeno chi mi ha ucciso Ok io e Joe siamo safe Il vecchio deve volare boys Paolone potrebbe essere quello dalla quale tu Inizialmente gli dici che c'è un problema E in realtà poi ti copre capito? Però devo stare anche un po' con gli altri Se no non riesco a farmi un alibi Levate metà la vista Mamma mia ma che è? L'Orgia Io gamba power Io non mi fido delle mosse che fa Giorgio Che secondo me deve volare assolutamente E Giammo Giammo alla fine turna e dice Eh sei tu Giammo è così Cioè nel senso io faccio metagame E dico che è Deluxe Perché Deluxe chiama sempre il pulsante da impostore No troppo tempo morti sì No 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 Me ne frega un cazzo Chiama un bello che è il pulsante Dati tutti di là per favore Ma davvero famo Ma davvero doppio reale Mamma mia quanto è Deluxe Palesissimo Uno in caffetteria Due stanno andando là Dai lo faccio No tocca chiamare il pulsante Perché qua è morto palesemente qualcuno Valla a uccidere Sì vieni con me Niente No Stiamo Stiamo prendendo troppo tempo Umac Eh vabbè Ah oh Sì Andava fatto per una questione Che secondo te era passato troppo tempo Ok Io posso garantire per Gabbo E Gischianto Chi è che è stato spesso più Chi è che è stato per tanto tempo insieme Io Gabbo e Gischianto Manca una kill Io ho power e Gischianto Secondo me boys Chi è stato tanto insieme C'è qualcuno che è un impostore E non è riuscito a fare la kill Perché è impossibile che uno non killi adesso Cioè è improbabilissimo Io e Gabbo abbiamo fatto il meltdown assieme Sì Il primo Allora Io ho fatto questo con chi? Con Gabbo No con me Ah con Umi è vero Però posso chiedere una cosa Power Perché non Cioè io non Non capisco perché sei sempre Nel lato sinistro A non far niente della mappa E poi spunti a volte a caso Stai scherzando Stavo con Gabbo e Gischianto Oh Sì Siamo stati insieme a fare questo E' omi E' omi E' omi Al mille per mille Ma Daniel tutto questo Dov'eri? Se ti devo dire Dall'inizio inizio È un disastro Ti posso dire L'ultimo che ho fatto Ora Ora Adesso io stavo andando Io adesso ero con Fierik In Reactor in alta sinistra Era nel laboratorio Quello Stavo facendo di cristalli E con noi c'era No Omiatol che ha fatto Penso Reattore Eh prima c'era fatto Omi Gischianto con Giorgio Erano usciti da Decontaminazione poco prima Tu puoi anche capire le accuse Di Gischianto Dice mi vede strano Non so cosa voglia dire Eh Stai da solo Ma non ero da solo Ero con Omiatelo Non è che se non Sto a contesto da solo Qui c'è un problema Regà È che non avendo fatto Tante kill Adesso hanno quasi Tutti quanti fatto La Le Le tasche importanti E quindi hanno già Hanno già un grosso vantaggio Su Sul tempo Il problema Sono le tasche Regà Cioè non sto a fare Una task Che non sto facendo Di questa roba orrenda Di questa roba orrenda E sto relegato Qua a fare i meteoriti Dai Come se Sabotati Mamma mia Che palle Che è Deluxe E non posso Sapere O dire Perché lo è Io continuo a trattare Mi uso Che favolo Continuo a trattare Omi Come un possibile assassino No però Devi farne uno So Mi dispiace Giù Ma Sa Da Fa Ho trovato un corpo Però neanche l'ho visto Per terra Regà 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 No power No Stavate No 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 Dove Con noi Stavi prima Ero in basso a destra Sotto al pulsante Ho fatto la mia task Poi sono andato a fare Quella della Della lampada di Aladino Nello stanzino Sono andato sopra Insieme a Gabbo Giorgio Poi è arrivato Gabbo Ma adesso parlo io e urlo Così magari mi ascoltate Infatti Aspetta Sì Aspetta un attimo Io poi da lì sono andato sotto E sono andato Ho fatto la 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 Word La pink word Già Ammo Do stavi tu E sono andato in basso a sinistra Non mi sono mai sbagliato Ero lì maestro Lì con Gischia Zumbare sparato Se il cadavere avete trovato il rettore sono io Io paura l'ho visto 5 secondi prima che la chiamassero Io mi sono messo al centro mappa official mi è uscito alla destra Secondo me la official alla mongolfiera non c'è mai stato perché non ce l'ho vista Ha inizio Ma è uscito dalla botola e è tornato sopra Ma inizio del round Ma che cazzo di collegia? Ma allora Già Ma È una call di uno che ha Rolex che ha 10 secondi di ritardo È uguale All'inizio appena è partito il round io ho fatto mongolfiera e tu hai fatto radar Ho finito mongolfiera sono andato nello stanzione e tu stavi ancora lì Anche secondo me è self report perché all'inizio che ci sono sospetti su Gischianto E poi l'han visto botolare Io voto quello che mi dite voi E poi ce l'ha con me dall'inizio A chi lo devo fare? A me vai giù Vabbè ho scontato Fieric Fieric fai volare qualcuno con la doppia Abbiamo perso Ma come fanno voto a me? Ma come fanno? Fieric 20 secondi Non fa partire niente Fiesta fermo Fiesta fermo Veccio stai fermo 20 diciannove e diciotto ora vi è qua vi è qua doppia doppia chi è via fa la doppia fa una doppia tutti dittà città 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 chissà che è colpa mia scusa cambio nome che il 30 prima round che sed è per un po sopra a me da gesù cristo una motivazione ad io se non la posso dire ci avevate preso entrambi siate blu che ci schiava e meravigliosi